La selezione della classe dirigente tocca ai partiti, non tocca a noi, tocca a loro. Insomma io penso che ci sia una politica clientelare che non finirà mai in un'aula giudiziaria, ma che forse politicamente andrebbe combattuta. Vincenzo De Luca è in questo elenco per concussione continuata. Ora la concussione continuata, se non va aderrata, non è nei reati previsti dal codice dell'antimafia. Come sbaglio? Si sbaglia. C'è la concussione? C'è perché lo consideriamo un reato spia. Nel PD non ci sono i presentabili, hanno detto più volte sia il Presidente Renzi che il Ministro Boschi, il suo elenco smentisce questa affermazione. L'unica smentita riguarda il candidato a presidenza della regione campana, caso assolutamente noto, il quale come ho detto prima noi non abbiamo inteso approfondire perché lì non servivano ulteriori elementi di conoscenza. Le liste del Partito Democratico però sono liste, ovviamente lo dico, da questi dati, nei quali non si riscontra nessuna candidatura che non sia in regola con il codice, salve il candidato Presidente e la regione campana. Ernesto Carbone l'accusa di violare la Costituzione e dice che sta piegando la Commissione politica e la Commissione ad una vendetta politica. Mi permettete di non rispondere, posso non abbassarmi a rispondere, grazie. Però Presidente, Carbone fa parte della Commissione antimafia e anche dall'interno della Commissione antimafia, ieri ad esempio Di Lello ha fatto una nota per dire che la gestione è stata tutta in mano alla Bindi, di ognuno si premerà una sensibilità. Ma ci chiediamo se anche dentro l'antimafia ci sono state delle tensioni, se ci sono state posizioni diverse. Ma sicuramente, ma sa come c'era una fase di Falcone che mi ero messa da parte. Non è per strumentalizzare, sapete che non faccio mai citazioni, ma questa mi è proprio piaciuta. Che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così. Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare. Ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare. Per quanto riguarda poi l'On. Di Lello, l'On. Di Lello fa parte dell'Ufficio di Presidenza, non è un semplice componente della Commissione. E io questo mandato l'ho avuto dall'Ufficio di Presidenza. Ha vinto le primarie De Luca e comunque io penso che guardatevi le liste e quindi da questo punto ci sono alcune forze politiche che l'hanno fatto, altre che non l'hanno fatto. Anche tutto quello che normalmente si dice, devo dare atto al Presidente del Consiglio, nonché il segretario del mio partito, l'avevo detto più di una volta che lui e alcune persone che risultavano a posto con la Severino e con il codice, si invitava candidati delle liste collegate a non votarli, quindi da questo punto di vista il caso poi, come sapete, noi ci siamo tenuti fuori volutamente dal rapporto candidabilità e ineleggibilità della legge Severino, perché è ancora una materia molto, ma molto da definire. Noi sappiamo perfettamente che alcuni sono stati messi in lista pur non essendo a posto perché portano voti. Forse perché non sono a posto, però è anche bene che si sappia come sono le cose. Ha sentito Renzi che ha appena detto che è assolutamente autoreferenziale parlare di tutta questa discussione che c'è nel nostro paese sugli impresentabili. Siamo in una consultazione elettorale nel quale, lo ripeto ancora una volta, il tema della qualità della classe dirigente ha superato la qualità dei programmi. Se non avessimo fatto niente qualcuno ci poteva dire che ci state a fare. Questo non è un lavoro autoreferenziale, perché questo lavoro qua noi lo offriamo ai cittadini che hanno un elemento di informazione in più e lo diciamo anche ai partiti politici e ci sono alcuni che risultano totalmente in regola con questo codice, altri no e i cittadini valuteranno. Noi abbiamo esercitato la nostra responsabilità non perché vogliamo dire ai cittadini votate in un modo o votate in un altro, vogliamo soltanto dire ai cittadini che per votare bisogna anche essere informati. Grazie. 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 Grazie.